bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi parliamo di un caso italiano e sarà un caso in collaborazione con un familiare lei si chiama monica marchioni ed è una donna spettacolare a cui è successo qualcosa di orribile orribile a dir poco quello che vi sto raccontare è come l'ha chiamato lei stessa un vero e proprio film horror oltretutto questo è un video un po diverso dagli altri nel senso che questa è la prima volta in cui io edo siamo andati fisicamente a casa sua per parlare con lei quindi ci tengo particolarmente mettiamo sempre il cuore nei video che realizziamo ma in questo forse c'è un po più di noi come sempre amici io vi ricordo di essere gentili nei commenti di esserlo sempre in generale nella vita e sui social ma di esserlo in particolare sotto i video in collaborazione con i familiari perché a differenza mia che lavoro sui social ormai da anni loro magari non sono abituati a ricevere insulti senza senso quindi come sempre vi dico se non avete nulla di carino o di utile da scrivere per questa volta per favore non scrivete niente torneremo però a parlare di commenti sempre relativi a questo caso perché c'è una parte di questo caso che mi ha sconvolta e anche un po disgustata e sarebbero i commenti su questa storia di molta gente su tiktok commenti che leggendoli palesemente derivano dalla scarsa conoscenza del caso infatti con questo video spero di riempire tutte le lacune che possono esserci su questa storia in modo che nessuno possa più speculare in questo modo anche perché i fatti sono chiari c'è una ricostruzione dettagliatissima dei fatti c'è una sentenza da parte del giudice chiara e limpida quindi insomma è tutto molto chiaro oltre ogni ragionevole commento per adesso iniziamo ad addentrarci nella storia di oggi oggi parliamo di quello che è successo a monica marchioni e alla sua famiglia monica marchioni nasce a bologna il 7 gennaio del 1965 è una donna estremamente forte e lo si capisce subito parlandoci anche nel dolore trasuda una grande forza questa almeno è stata la mia impressione monica a 33 anni conosce un uomo con cui ha una bella storia d'amore molto travolgente e solo un anno dopo circa rimane incinta di un bimbo un maschietto monica racconta di aver vissuto questa gravidanza benissimo sono stati forse i nove mesi più belli della sua vita e l'11 luglio del 2001 nasce suo figlio che chiama alessandro leon le cose con il padre di leon però iniziano a non andare più bene monica racconta di essere andata in una specie di crisi che probabilmente altro non era che una depressione postpartum perché racconta di aver passato i primi mesi in uno stato di confusione in cui si è sentita spaventata da questa nuova maternità con la paura di non essere in grado di fare la mamma e racconta di aver perso tutte le certezze che aveva per 3-4 mesi lei e il padre di leon provano a far funzionare la loro relazione ma alla fine arrivano alla consapevolezza che non devono più stare insieme e di comune accordo decidono di separarsi quando leon ha quattro mesi la vita dopo il divorzio procede in modo sempre più sereno nel senso che monica ritrova il suo equilibrio la sua serenità la sua indipendenza va infatti a vivere in un nuovo appartamento da sola insieme a leon e il padre del bambino è molto presente così come lo sono anche i suoi nonni beh da piccolo è sempre stato un bambino un ragazzino bambino bambino dolcissimo un bambino molto simpatico noi ci siamo separati non erano sposati il suo padre ci siamo allontanati che lui aveva quattro mesi e quindi ha vissuto già in ambienti separati non ha avuto nessun trauma infatti era un bambino molto solare molto simpatico aveva proprio la stava con tutti si adattava non era un bambino che fosse non so capriccioso ombroso stessa cosa anche alle elementari andavamo insieme spesso andavamo fuori a mangiare lo andavo a prendere alle elementari anche alle medie andavamo fuori in un ristorante particolare che lui piaceva moltissimo di bologna dove facevano il risotto lo zafferano lo chiamavano riso giallo mi piaceva moltissimo e si sentiva molto molto principino trattavano come cliente speciale perché lui si faceva amare c'è proprio un bambino educato io gli insegnavo l'educazione il rispetto l'amore per le tradizioni quindi tutto quello che era più sano per lui nella crescita e così è stato perché comunque anche il rispetto che aveva nei confronti delle persone più adulte nei confronti delle persone più anziane era veramente tutti mi facevano i complimenti oa lui o a me tutti si meravigliavano comunque in questo mondo che va mille dove tutto ormai non è più di moda e molto spesso anche i bambini sono così un po maleducati un po lui era veramente una perla e spesso veniva con me in vacanza con le mie amiche era un po lo metto si può dire il principino di del gruppo perché ma sempre noi noi signore noi ragazze da sole e lui veniva con me come unico figlio perché le altre mie amiche non avevano figli o avevano già dei figli molto grandi e lui si adattava benissimo a volte ci dava ci dava anche i consigli si adoperava anche a darci dei consigli voleva sapere le nostre cose voleva sapere non so una mia amica piuttosto se gli piaceva uno l'altro perché gli voleva dare i consigli voleva dare i consigli quindi era proprio un ometto da tutti i punti di vista e vivevamo la vita insieme io e lui sempre andava anche da suo padre ovviamente a volte ma era il nostro rapporto che la speciale lo so che tutte le mamme i figli hanno ma il nostro era davvero speciale ma non ero l'unica dirlo lo dicevano gli amici lo diceva addirittura mio padre che era un uomo molto da altri tempi molto silenzioso poche parole però lui a volte si meravigliava diceva il cresciuto questo figlio in un mondo meraviglioso bellissimo perché lui è veramente ci avete veramente un bel rapporto e questa è stata forse la cosa più destabilizzante nel 2015 monica che ha 49 anni conosce per caso un uomo di nome loreno grimandi con cui in principio stringe una bella amicizia amicizia che però dopo un po diventa qualcosa di più mi hai detto che in principio eravate amici e poi sbocciato qualcosa di più se noi ci siamo conosciuti con lollo ci siamo conosciuti che io ho fatto una stavo facendo una sostituzione di una maternità in azienda nella sua azienda dove lavorava e sono stata qualche mese lì e l'ho conosciuto così ma all'inizio io non lo vedevo neanche prima di andarmene ho salutato tutti i colleghi lui casualmente è passato dalla dalla hall dalla reception insomma mi ha fatto qualche battuta e poi mi ha chiesto se potevamo vederci sapeva che è un buon figlio mi ha chiesto se potevamo vederci magari fuori dall'ufficio per non perderci di vista insomma lui era da solo stava a casa mi sembra non fosse un agosto e stava a casa ad agosto diceva ti vengo a prendere con alessandro leone andiamo a mangiare il gelato andiamo a mangiare una pizza e quindi inizia la nostra conoscenza nostra frequentazione insieme ad alessandro leone tant'è che a volte io mi sembra siccome lui era stato sposato e non aveva figli quindi non era abituato ad essere papà era ancora figlio anche se lo ha già 50 anni e quando andavamo fuori loro erano sempre molto complici quindi mi sembrava di portar fuori due ragazzini praticamente mio figlio aveva 14 anni quasi 15 14 anni e lui ne aveva 50 ma come non sentirli e quindi a volte mi sembrava veramente io lo dicevo con loro perché loro si facevano gli scherzi si prendevano in giro poi magari prendevano in giro me e c'è capitato di uscire così per qualche mese a un certo punto ci si è resi conto che un giorno siamo andati a pranzi insieme ci siamo detti entrambi ma c'è qualcosa di diverso non senti qualcosa di diverso sì tu mi manchi in maniera particolare ma allora non siamo più amici ma allora è meglio che ci facciamo un discorso perché stiamo andando avanti in un modo anche con alessandro leone che non è giusto quindi se tu mi manchi così se io quando non ci sei ti penso se sento di provare certe cose insomma qualcosa stava nascendo abbiamo continuato a frequentarci in maniera più assidua diversa e ho parlato con mio figlio abbiamo parlato con mio figlio e tutti dispiacerebbe se venisse a vivere con noi lollo assolutamente no era molto felice anche perché ero sola da tanto tempo e secondo me a lui mancava una figura maschile al mio fianco sì infatti lui mi ricordo mi ricorderò sempre che lui dice questa frase dice no mamma anzi sono felice che tu non sia più sola e questa cosa me la ripeteva anche in passato mi diceva mamma ma perché non ti fidanzi e diciamo per quale motivo mi devo fidanzare con uno qualsiasi assolutamente no io sarò sola tutta la vita solo con te e lui mi diceva ma no dai cioè ma come se gli mancasse questa figura al mio fianco come se mi sentisse sola monica e lollo decidono di andare a vivere insieme e in tutto ciò leon che ha circa 14 15 anni a questo punto è contento e felice per sua mamma monica infatti prima di decidere di far venire lollo a vivere insieme a lei e a leon chiede diciamo il permesso al figlio cioè chiede la sua opinione perché va bene che leon ci vada amore d'accordo ma sapete farlo venire a vivere nella loro casa è chiaramente qualcosa di più importante che andrebbe a modificare un equilibrio già esistente e monica ci tiene che leon sia d'accordo con questo cambiamento ma quando monica glielo chiede leon è felicissimo e le dice proprio sono contento che finalmente non ti vedo più stare da sola quindi ci sono dovuti incontrare le nostre due personalità i nostri caratteri perché le nostre anime erano già vicine abbiamo dovuto soltanto plasmare i nostri caratteri e che poi abbiamo scoperto essere plasmabilissimi a questo punto monica lollo e leon vivono come una vera e propria famiglia lollo diventa una figura paterna per lui una figura paterna comunque aggiuntiva diciamo perché comunque leon continua ad avere un buon rapporto con suo papà ho chiesto a monica di raccontarmi un po come fosse la personalità di suo figlio in questi anni diciamo negli anni di serenità e questo è quello che lei mi ha detto tenetelo a mente perché è importante quindi viviamo insieme felicemente con gli alti e bassi che hanno tutte le famiglie normali con le litigate familiari tutto nella norma però tutto molto bello perché comunque iniziava proprio a prendere forma una famiglia vera e loreno era diventato un padre per mio figlio perché comunque era molto dolce molto buono quindi lo lo cudiva lo sgridava ma molto spesso gli teneva la parte magari non davanti a me non davanti a lui ma con me dove mi sgridava un pochino quindi insomma c'era questo equilibrio molto bello si era innescata questa cosa molto bella leon ha sempre fatto fatica a scuola quindi dopo il primo anno di liceo che aveva scelto lui bocciato noi per non fargli perdere la scuola cioè per farlo arrivare insieme ai suoi compagni di scuola di classe e suoi amici gli facciamo fare una scuola privata e due anni in uno per metterlo allo stesso livello per non farlo sentire inferiore perché lui aveva un po sempre avuto crescendo gli era aumentata questa sensazione di insicurezza di fragilità e quindi io per proteggerlo forse in maniera sbagliata non lo so però io pensavo di aiutarlo in questo modo gli aveva fatto fare d'accordo anche con mio marito questa scuola privata però nonostante tutto lui più cresceva e più diventava insicuro pauroso di qualsiasi cosa soprattutto delle malattie quindi stava anche manifestando questa forma di ipocondria molto leggera molto però insomma diventava sempre più concreta e ripeto cioè dico sempre tutto questo in un equilibrio non era una persona squilibrata non era mai stato arrogante cattivo sì le scenate ripeto dell'adolescente che sta crescendo però quando non gli dicevamo gli davamo una regola lui era molto obbediente gli davamo un orario lui rientrava mi chiedevo dov'era infatti ci faceva sempre sapere dove c'era molto era ragazzino che cresceva quindi con tutti i suoi lati negativi però era molto nella norma molto equilibrato aveva soltanto soltanto allora era soltanto non voglia di andare a scuola per nulla quindi alle medie paura di affrontare i professori gli esami tutto nel durante invece l'adolescenza liceo era un po cresciuta questa sua paura era diventata proprio anche la schifava la scuola alla mattina a volte gli veniva la febbre e non scaldava il termometro proprio gli veniva la febbre gli veniva stava male proprio affrontava malissimo affrontava malissimo le scuole giornate a scuola anche se noi lo aiutavamo in questa scuola privata abbiamo avuto per un po paura che avesse problemi di ADHD quindi la mia abbiamo fatto fare anche tutti i test sembrava che non avesse questo problema o che fosse leggermente poi aveva aumentato tantissimo questa negli ultimi tempi questa sua fobia delle malattie a livello che se gli veniva se si tagliava o dio mamma mi viene un'infezione o dio mamma insomma avevamo cercato di mettere insieme queste cose di riuscire ad aiutarlo gli abbiamo fatto fare un percorso di circa un annetto con una psicologa per aiutarlo soprattutto a scuola perché noi eravamo con ma non noi anche chi ci seguiva appunto la psicologa l'altro psicologo che aveva fatto i test per l'ADHD eravamo tutti convinti che lui questa forma di stress la chiamo di paura delle malattie la avesse concretizzata per questa sua difficoltà nell'andare a scuola per la sua difficoltà nell'approcciarsi allo studio per questa sua paura quindi da una paura nasce un'altra allora io l'avevo aiutato con questa dottoressa questa psicologa che faceva proprio questo nella vita con con un aiuto con un supporto di altre colleghe gli faceva lo facevano studiare lo facevano diciamo lo tiravano un po fuori da questa sua da questo suo terrore che era diventato e nello stesso tempo lui aveva questo stress che portava avanti di questa paura di malattie e per quel che riguarda il liceo finisce lì fino alla fine del liceo che riesce a dare l'esame quindi aiutato e agevolato in una scuola privata però mentre gli altri suoi compagni di classe avevano preso dei voti dal 60 62 63 perché sai non studi passi lo stesso però ti danno 60 lui aveva preso 87 perché si era dato da fare per riuscire perché la paura che lo bocciassero lo stesso quindi si era dato da fare perché lui era molto intelligente anche se faceva finta di non esserlo e le cose continuano ad andare in questo modo in modo normale e sereno fino al compimento dei 18 anni di leon il suo compleanno è un momento importante perché se monica dovesse definire un momento un punto in cui tutto ha iniziato a cambiare sceglierebbe proprio questo il diciottesimo compleanno di leon dovete soffiare tutti insieme uno due tre via e mi ha raccontato un aneddoto preciso che è stato diciamo per lei il primo campanello d'allarme si finisce il liceo e io attribuisco questo non a questo a quello il momento in cui è cambiato lui compie gli anni compie gli anni l'undici luglio facciamo sempre il compleanno insieme io l'ho le mio lui l'olio e mio padre perché compievano gli anni più o meno l'essa data quell'anno mio papà non c'era perché non stava già più bene perché era anziano ed è il 2020 se non erro facciamo questa festa di compleanno sempre nello stesso ristorante lui desiderava quel periodo ci diceva che desiderava un orologio non aveva mai amato gli orologi e lui faceva nome di marche noi pensiamo gli possa far piacere un orologio comunque per quanto non fosse una marca una di quelle che voleva lui comunque una buona marca non una marca non un orologio di plastica un orologio ma si voleva rolex patac filippe voleva lui diceva mi regalate io ero andata anche a cercare l'usato fra l'altro per riuscire a arrivare una certa cifra ma non c'eravano usciti insomma poi a me sembrava anche veramente non c'era dato delle gran soddisfazioni negli ultimi anni comunque a 18 anni questa mia mio pensiero non puoi arrivare a dire solo sì a un ragazzo l'avevamo già aiutato in tante cose ai 18 anni te le devi anche guadagnare le cose bene ti regaliamo comunque ugualmente un orologio da 1200 euro voglio dire io credo che sia un bello regalo lo stesso quindi mi devo da fare gli trovo questo regalo gli troviamo questo regalo gli facciamo questo regalo e lui la sera lo apre al ristorante dice a grazie l'orologio bellissimo poi dopo un po io vedevo che non era proprio felice glielo chiedo di qua non ti piace cioè no mamma mi piace moltissimo però sai che io gli orologi non li amo scusami ma mi hai chiesto un orologio sì ma io ti avevo chiesto non un orologio ti avevo chiesto rolex patac filippe cartier io non voglio un orologio io voglio l'orologio per far vedere che io non ci siamo capiti a parte che ti ho regalato un buon mercier che per quanto non sia da ragazzi giovani perché magari una marca più dei miei tempi però voglio dire ci siamo anche sacrificati per comprarti questo orologio poi credo che a 18 anni sia più che sufficiente no poi magari vediamo nel tempo se te lo meriti se ti meriti se ti dai da fare a dice no ma non ti preoccupare dice io se mi permetti vado in orificeria che era oggi un nostro amico e dice lo vado a cambiare con un tennis di brillanti allora io mi rendo conto che possa sembrare sciocco ma da mamma ci rimango molto male quella sera ma male 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 tanto che usciamo da ristorante metto a piangere perché è una cosa che mi aveva dato molto dolore perché noi avevamo proprio fatti salti mortali per riuscire a trovare un bell'orologio che però non avesse una cifra esorbitante però ripeto è già quello credo che quindi usciamo anche addirittura mamma bruna mia suocera rimane molto male che lei è una persona molto un po come era mio padre silenziosa molto tacitura non si sbilancia mai invece quella sera ci rimane male e gli fa una critica anche lei gli dice ma dai leon vedi la mamma ci è rimasta malissimo lui mi diceva ma cosa pretendevi che ti dicessi una bugia non lo mettessi dovresti essere più orgogliosa di questo che io ti ho detto la verità ma in maniera talmente fredda quasi come se non gli interessasse neanche del dispiacere che ce l'ha dato anche a mio marito e da quel momento io ho iniziato a vedere piano piano in lui dall'11 luglio più o meno ho iniziato a vedere in lui una sorta di peggioramento da questo momento in poi appunto leon inizia a cambiare a scuola non va più bene è svogliato non ha proprio voglia di andare monica e lollo fanno di tutto per invogliarlo e per aiutarlo quando viene bocciato al liceo classico decidono di accettare di pagargli gli studi in una scuola privata pregandolo perlomeno di finire il liceo di prendere il diploma di prendere quel pezzo di carta così che poi potesse decidere che cosa fare del suo futuro cioè non doveva per forza andare all'università insomma cercano in tutti i modi di aiutarlo affinché perlomeno passasse la maturità oltre alla scuola privata infatti monica gli paga anche un tutor che lo seguisse nelle materie in cui aveva più difficoltà lollo si offre di aiutarlo gli dice che dopo il diploma c'erano tanti concorsi che avrebbe potuto fare per iniziare a lavorare dato che studiare proprio non gli piaceva ma monica racconta che era un continuo lottare leon non ne vuole sapere di studiare e inizia a ribellarsi inizia a diventare proprio più menefreghista monica inizia a preoccuparsi perché non sa più cosa fare sente di star facendo il massimo non sa più come aiutarlo ma allo stesso tempo si dice che è un adolescente ed è diciamo piuttosto normale avere degli attriti con il proprio figlio adolescente soprattutto quando si parla di studi o responsabilità il cambiamento grosso però avviene nell'estate del 2020 di lì in avanti inizia proprio ad avere un atteggiamento ostile nei confronti di monica di sua madre cosa che non aveva mai avuto prima era sempre stato un ragazzo educato ma come detto dall'estate 2020 in poi inizia essere più maleducato nei confronti di sua madre e proprio più cattivo monica continua a dirsi che probabilmente stava solo crescendo e forse il suo bisogno di autonomia il suo bisogno di indipendenza unito al fatto che fosse comunque ancora solo un ragazzo lo rendeva arrogante in quel modo forse semplicemente stava diventando un adulto arrogante il che a monica dispiace moltissimo perché come vi ho detto lei ha sempre cercato di crescerlo infondendogli dei valori positivi insegnandogli l'educazione ma c'è qualcos'altro che turba monica che è qualcosa di più della delusione di una madre nel vedere suo figlio crescere in un modo più maleducato di come l'ha cresciuto monica racconta di aver iniziato poco a poco ad avere proprio paura di suo figlio racconta che da gennaio del 2021 il cambiamento è repentino da qui in avanti amici sembrerà che non stiamo neanche più parlando della stessa persona lui cambia drasticamente di punti in bianco io lo identifico più o meno a gennaio già a dicembre quando facciamo natale facciamo una foto lui ci abbraccia ma però non era così come posso dire nei mesi precedenti erano state quasi gocce no a gennaio si era già formato qualcosa che non so cosa fosse e arriva stava a casa non lui non era mai stato un ragazzo che andava fuori la sera discoteca si è stato che veramente poche volte non usciva di casa lui si andava fuori il pomeriggio lui diceva che andava a raggiungere degli amici in una zona di bologna che io conoscevo non era una zona che mi piacesse molto non credo fossero dei gran belli amici e infatti io lo contestavo gli dicevano una piacere che tu vada fuori con queste persone perché non credo che siano delle belle persone tutti i ragazzi più giovani di lui fra l'altro e lui mi diceva ma ma tu devi essere di meno discriminante io vado con loro perché andiamo a suonare andiamo a cantare aveva comprato il microfono aveva comprato questo quell'altro e sapevo che andava con un suo amico d'infanzia mi diceva lui in questa zona di bologna in questa casa di queste persone a cantare e poi tornava a casa la sera solitamente tornava a casa alle 8 tornava a casa alle 10 cioè non aveva degli orari però stava cambiando stava cambiando il modo di fare stava cambiando gli occhi stava cambiando era freddo era era come se fosse un corpo senza un'anima io l'ho sempre identificato così ci ho pensato poi dopo anche se io in quei giorni in quei mesi non so perché non mi aveva mai maltrattato non era mai stato violento io avevo paura stare in casa con lui perché lui si era preso l'anno sabbatico dopo la scuola per decidere cosa fare se studiare se fare liceo all'università e stava in casa con me al pomeriggio perché io andavo fare le mie commissioni poi tornavo in casa lui magari la mattina saltava presto saltava tardi mangiava faceva colazione poi andava magari fuori andava a mangiare la mia mamma molto spesso a mezzogiorno oppure rientrava al pomeriggio poi usciva non so pomeriggio tardi insomma non era un gran stava spesso in casa io avevo paura stare in casa con lui io sentivo che c'era qualcosa che non andava ma non riuscivo a spiegarmi cosa anche perché una madre non può mai arrivare a immaginare perché io anche quella notte non ho immaginato mentre lui faceva quel che faceva non non io dicevo sta giocando non è lui non è vero perché una madre non può arrivare a pensare che un figlio ti faccia una cosa del genere e lui cambia cambia e ci dice spesso non solo una volta ci dice due tre volte guardandoci negli occhi io non sono quello che voi credete io sono una persona cattiva con quasi sorriso di di soddisfazione scusate di soddisfazione e io non sono buono come te tu sei sensibile io no tu pensi che io sia buono ma io non sono così io sono cattivo e noi noi soprattutto mio marito pensava che fosse una fa il tipetto perché adesso cresce magari va fuori con certa gente può fare il bullo sfido chiunque a pensare diversamente perché quando hai un figlio che cresce a 19 anni se fa questo dici caspita magari frequenta delle brutte compagnie fa un po' il tipo però con noi non era mai stato cattivo anzi veniva a tavola la sera ci parlava ma parlava in maniera diversa parlava in maniera più fredda e poi aveva sempre questo sorrisetto io lo ricordo così mio figlio gli ultimi mesi fino a quella notte leon quindi è cambiato in questo modo repentino e inspiegabile tanto che da un certo punto in poi monica inizia ad avere paura di lui in quel periodo tra l'altro i telegiornali parlavano di un fatto di cronaca nera molto famoso e angosciante il caso di benno numar il ragazzo di 31 anni che ha ucciso sangue freddo entrambi i genitori dopo 113 giorni di ricerche ininterrotte è stato individuato per caso da un passante nelle gelide acque dell'adige il corpo di peter noemeyer 63 anni riconosciuto per ora dall'orologio ancora al polso peter è il papà di benno il trentenne appassionato di fitness che il 6 febbraio al ritrovamento nell'adige del cadavere della madre laura perselli 68 anni ha confessato di essere stato proprio lui proprio in quei giorni erano saltati fuori degli audio che la mamma di benno aveva mandato a un'amica confidandole che già da un po di tempo aveva iniziato ad avere paura del suo stesso figlio a monica sentendo questa notizia al tg vengono i brividi perché si sente esattamente come si era sentita la mamma di benno tanto che amici monica la notte inizia a chiudersi a chiave in camera da letto e so che ci sarà qualcuno che scriverà nei commenti vabbè si chiudeva chiave per paura del figlio allora perché non ha chiamato i carabinieri io vi rispondo perché non è così facile lineare la vita a volte monica se ci pensate non ha un motivo tangibile per aver paura di suo figlio è più una sensazione la sua sesto senso ma che lei scaccia via e prende come paranoia non è una cosa razionale non è so per certo che mio figlio vuole farmi del male allora mi chiudo a chiave per difendermi è più una sensazione di angoscia inspiegabile che lei stessa non riesce a spiegare e di cui da madre chiaramente si vergogna cioè non è che si vergogna però non deve essere facile per una madre ammettere a se stessa di aver paura del proprio figlio quindi per assicurarsi si chiudeva chiave di notte ma non voleva ammettere questa cosa a tal punto dal chiamare i carabinieri che poi amici chiamarli per dirgli cosa esattamente in più il marito lollo che non ha questa sensazione cerca di rassicurarla perché lei condivide le sue paure con lui e cerca di rassicurarla facendola sorridere dicendole ma figurati ma che esagerata che sei lei dice ma di cosa hai paura che pippo baudo venga di notte ci ammazzi ma ce lo vedi pippo baudo che ci fa del male ma figurati chiamavano leon affettuosamente pippo baudo o gambilone perché leon aveva le gambe molto lunghe quindi insomma lui sdrammatizza dicendole che è solo paranoica che forse si è fatta influenzare dalle notizie che ha visto alla tv anche perché vi ricordate per tutta la vita leon è stato un fifone concedetemi il termine cioè un ragazzo molto sensibile che aveva paura della sua stessa ombra che non avrebbe fatto del male a una mosca monica per esorcizzare le sue paure prova anche a confrontarsi con leon riguardo al caso di benno guardando insieme il telegiornale commenta la cosa con lui dicendogli qualcosa tipo certo che è proprio una storia orribile no come si fa ad uccidere i propri genitori tu cosa ne pensi e leon guardandola le ha risposto beh sì certo non è normale però monica nota sempre quell'alone di apatia nelle sue risposte fatto sta che leon continua a non essere se stesso tra i cambiamenti che fa ce ne sono alcuni davvero inquietanti per esempio da un certo punto in poi inizia a parlare di volersi togliere la vita ma non lo dice in modo serio ecco questa è una notizia che secondo me i giornali hanno riportato un po male perché io avevo letto un articolo su questo ma non si capiva nulla infatti ho chiesto a monica di spiegarmi bene questa questa parte perché volevo capire se leon stesse manifestando davvero un disagio ma non sembra che sia così non sembra che stia manifestando un disagio a questo punto bensì sembra che stia invece giocando con la pazienza di monica e lollo che stia cercando di sfiancarli in qualche modo o per dirlo forse in maniera più corretto sembra che gli stia facendo un'enorme pressione psicologica col fine di indebolirli più volte ci dice io tanto mi voglio suicidare perché in questa vita non ci sto a fare niente e io chiaramente da mamma ma cosa dici preoccupatissima sì ma mamma non ti preoccupare io te lo sto dicendo così metabolizzi tanto poi un domani ci rivediamo non ti preoccupare solo perché così ti abitui io che lo guardavo come voglio dire sembrava veramente che ci prendesse in giro infatti ci prendeva in giro e una volta ci dice l'unico motivo per cui potrei non suicidarmi e se suonasse il campanello scusatemi se suonasse il campanello e qualcuno e mi dicesse che ho avuto un'eredità allora sarebbe l'unico motivo per cui non mi suiciderei ma sempre con questo sguardo dritto negli occhi e questo sorriso e questa non è l'unica occasione in cui adotta un atteggiamento del genere una mattina infatti monica e lollo si svegliano alle sette e mezza lollo va nella stanza di leon per svegliarlo così che non dormisse tutto il giorno dato che in quel periodo lui non stava facendo niente non andava a scuola non lavorava e quindi loro volevano evitare che poltrisse insomma a letto tutto il giorno ma quando lollo entra nella stanza di leon non lo trova nel suo letto al che allerta monica che si preoccupa subito anche perché monica spiega che leon non ha mai avuto la cosa di uscire la sera e di stare fuori fino a tardi racconta che sarà andato in discoteca sieno cinque volte nella sua vita e non gli piaceva fare festa e stare in giro appunto fino fino a notte fonda quindi il fatto che non fosse rientrato a casa a dormire era estremamente strano monica inizia a telefonargli ma il suo cellulare risulta spento monica va nel panico non sa cosa fare lo chiama ancora e ancora fino a che un'ora dopo verso le otto e mezza leon la richiama e con una voce che monica descrive come quella di un robot le dice dimmi lei in lacrime preoccupata come una matta gli chiede spiegazioni gli chiede dove si trovi che cosa sia successo al che lui sempre con una calma ghiacciante le risponde ti calmi ti sto chiamando ti sto rispondendo allora basta e le spiega che alle tre di notte non riuscendo a dormire si è alzato ed è andato nel bosco monica è senza parole non capisce cosa voglia dire quello è l'ennesimo comportamento che non fa parte di suo figlio del leon che lei conosce suo figlio non sarebbe mai andato nel bosco di notte perché avrebbe avuto paura non era proprio una cosa da lui ma nell'ultimo periodo tra i tanti cambiamenti leon si era diciamo appassionato alla botanica aveva iniziato a coltivare piante e piantine varie quindi dice di essere andato nel bosco per raccogliere delle piantine monica quando mi ha raccontato di questa sua nuova passione per la botanica mi ha detto che anche lì era una stranezza ma tra i tanti cambiamenti negativi che aveva avuto quello di darsi al giardinaggio le era sembrata una cosa positiva quindi lo aveva lasciato fare leon teneva tutte le sue piantine a casa di sua nonna la mamma di monica e lasciava lì anche tutti i macchinari che aveva comprato per mantenere queste piantine come per esempio un aggeggio per dargli calore ma non pensate alle piantine di marijuana perché non erano questo tipo di piante erano proprio piante ma lo vedremo meglio più avanti nel dettaglio che piante erano il tempo passa e leon continua ad esercitare questa sadica pressione psicologica nei confronti di sua madre e di lollo un giorno sempre in tono provocatorio leon dice che tornando a casa mentre guidava in strada ha investito un animale e lo dice con una leggerezza che nuovamente fa venire i brividi a sua madre che ricorda ancora i tempi in cui leon piangeva nel vedere anche solo in televisione qualche animale venire maltrattato e una sera addirittura torna a casa da un pomeriggio che era stato fuori e ci dice prima di andare in camera perché la camera sua era sopra e viene giù non mi ricordo a far cosa vedere se era pronto e prima di andare in camera ci guardano stavamo guardando la televisione o dopo cena non da solo ricordo erano davanti al divano e ci dice ma ma sai che oggi ho preso sotto un animale con la macchina io sono anche un animalista mi dice una cosa del genere lui che era sempre stato uno amante degli animali guai chi li toccava noi abbiamo sempre avuto cani in casa una volta uno dei nostri cagnolini aveva quasi fatto fuori una gallina lui disperato arrabbiato col cagnolino me l'ha fatto portare da veterinario la gallina quindi proprio assolutamente e mi dice e quindi io gli rispondo come preso sotto ma ti sei fermato lei soccorso e lui mi risponde sempre con lo stesso guigno e mi dice no perché so neanche sia vivo sia morto ma come leo ma stai scherzando ma 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 un animale ma tu non avresti mai preso sotto un animale chi se ne frega poi prendeva su in camera anche lì mio marito ma dai ma non vedi ma secondo te lui lui lo chiamava pippo baudo perché aveva le gambe lunghe non è che fosse altissimo però aveva le gambe lunghe cresceva di gamba e lo chiamava gambilone o pippo baudo quindi ci scherzava molto sopra mio marito e dice ma si gambilone che ha paura della sua ombra ma figo ma non vedi che si vede che in questo periodo della sua vita ti vuole scioccare ti vuole sai sei la mamma ma magari sei in contrasto e e quindi spesso lui ci fa quasi questi discorsi da farci come se ci facesse appunto pressione psicologica Monica tenta di chiedergli che cosa gli stia succedendo perché si comporti così ma leon è un muro di gomma gli rimbalza tutto e risponde sempre con frasi tipo ma perché cosa ho detto ma non ho detto niente scrollandosi sempre tutto di dosso e sempre con questo strano ghigno sul volto che leon stesse attuando un vero e proprio piano per distruggere psicologicamente sua mamma e lollo lo potrebbe confermare un aneddoto venuto fuori successivamente in sede processuale da una chat estrapolata tra lui ed un suo amico pare che leon in quel periodo abbia proprio detto ad un suo amico in modo quasi giocoso sai cosa sto facendo sto facendo sclerare i miei gli dico che mi ammazzo poi faccio così poi faccio colì li sto facendo impazzire questo suo amico all'inizio aveva riso ma poi dopo un po gli aveva chiesto stranito ok ma perché lo stai facendo leon aveva risposto che lo faceva per divertimento per vedere fino a che punto riusciva a sfiancarli psicologicamente e dice proprio testuali parole e i bro ci sto riuscendo sai con una risatina a seguire e una volta ci sempre dopo il cena visto che appunto durante la cena noi parlavamo sempre molto e anche in quel periodo nonostante lui fosse cambiato e si alza e ci dice sapete che io voglio una vita voglio fare una vita voglio avere i soldi e non fare tanta fatica e quasi quasi pensavo con un tal amico di abbiamo parlato che ci piacerebbe fare un patto col diavolo a quel punto io mi la gelo perché chiaramente mio marito sempre lo prende con la solito discorso perché lui lo racconta sempre queste cose in questo modo molto canzonatorio quasi quindi anche lì lollo non lo prende sul serio io mi non ci provare dissuado assolutamente perché queste cose anche per scherzo a me non piacciono perché sono quelle cose che non lo so sono dei mondi che andare intorno a queste cose anche solo per gioco vero o non vero non finiscono mai bene quindi dissuado questa sua cerco di dissuaderlo in questa sua cosa lui mi ascolta un po poi prendeva in camera un giorno di questi precisamente ad agosto 2020 monica perde la pazienza e lei e leon hanno un brutto litigio lei è sfinita e disperata sente che quello non è più suo figlio e non sa veramente cosa fare per riaverlo indietro quindi in un momento di rabbia gli dice che così non poteva più andare avanti e che se doveva continuare a far così allora se ne doveva andare di casa quindi monica caccia leon di casa ma per farvi capire quanto monica fosse una mamma premurosa persino in una situazione del genere in cui ha cacciato suo figlio di casa suo figlio ormai maggiorenne non lo lascia andare fuori allo sbaraglio ma gli affitta un appartamento su airbnb così che si stia fuori di casa ma allo stesso tempo che sia in un posto sicuro senza che debba preoccuparsi di dove andare di come mantenersi in agosto facciamo un'altra grandissima litigata io e lui mentre stiamo via lui ci fa una telefonata non so cosa ci chiede noi gli diciamo di no ma ce lo chiede in maniera irriverente in maniera maleducata ci urla nel telefono insomma una cosa che non era neanche da lui ripeto alessandro leon non era questo io mi arrabbio gli dico bene prendi adesso quando arriviamo a casa lo lo ti trova una casa su un arbnb e vai fuori di casa perché siamo stanchi basta abbiamo fatto di tutto per te adesso vai fuori di casa non gli può importare di meno mio marito torna a bologna gli fa la valigia lui prendeva fuori di casa gli troviamo l'arbnb lui va in una casa di un arbnb a bologna quindi non l'abbiamo buttato fuori di casa sotto un ponte gli abbiamo trovato una casa perché volevamo che riuscisse a capire stai fuori di casa magari più stai fuori più ti rendi conto di quello che ti che ti manca di noi dei genitori della tua casa monica in fondo crede ancora che il suo leon esista da qualche parte e il leon che conosce lei non sarebbe mai riuscito a vivere completamente da solo per più di un paio di giorni dato che aveva paura di tutto eppure leon vive in quell'appartamento da solo per un mese intero senza fare una piega lollo lo chiama spesso chiedendogli di tornare a casa di chiedere scusa a sua mamma insomma di farla finita con questo litigio e di tornare a casa ma lui è apatico dice di stare bene così nel frattempo mi sentiva mio marito e mio marito lo incitava chiedi scusa la mamma no ma tanto lei si è arrabbiata non mi tanto non mi fa entrare in casa un po come come se non fosse cioè dati da fare cercami fai qualcosa io facevo così quando facevo arrabbiare i miei genitori evidentemente non ti pesa star fuori insomma alla fine si decide torna a casa una sera loreno mi dice guarda chi c'è è venuto leon a trovarti lui torna con questa valigetta che gli avevo fatto dice mamma fammi tornare a casa ti prego mi manchi mi abbraccia piange ma io non lo sento io non sento mio figlio non sento il mio bambino perché comunque una madre lo percepisce e sento che c'è qualcosa che non va è come se sentissi il vuoto dentro quella braccio di quel ragazzone che mi stringe piange ma non trovo neanche le lacrime cioè quando va via va in camera dico va bene ok vai rimani qua ok mio marito felice ma sei contenta io gli dico no perché lui non mi vuole bene ma cosa dici ma sei matta non mi chiedere perché ma io sento questo non mi vuole bene ed era agosto 2020 ed è incredibile ma leon sembra un'altra persona davvero in tutto monica racconta che tutte le sue paure le sue ansie i suoi tic nervosi che aveva sempre avuto la brutta abitudine di mangiarsi le unghie era tutto sparito monica dopo il percorso con quella psicologa di cui vi ho parlato prima percorso che però non era servito a molto aveva deciso di portare leon da uno psichiatra sempre nel mezzo di questi mesi di grosso cambiamento e sempre per poter curare tutte quelle sue paure che aveva sempre avuto tipo quella per le malattie cioè la sua forte ipocondria gli faccio la proposta poco prima in febbraio di mandarlo da questo psichiatra proprio per ipocondria e per questa forma di stress che comunque nonostante finita fosse finita la scuola gli era un po diminuito ma non gli era passato io gli feci la proposta perché so che queste cose diventano si cronicizzano non va bene lui mi disse sì mamma hai ragione ci voglio andare perché non ne posso più questo fai conto facciamo conto gennaio febbraio quindi inizia andare da questo psichiatra che lo vede quattro volte in tutto perché poi è successo tutto 45 volte e la seconda volta che va dallo psichiatra lo psichiatra ci chiama e ci dice ma dov'è l'ipocondria questo ragazzo non ha niente gli sto facendo tutti perché loro fanno tutti test appena vanno questo è una psichiatra di quelli proprio rinomati un persona una persona già anche di una certa età collaborava anche con il tribunale una persona che sapeva il suo lavoro e gli fa questi test e non gli trova fra l'altro neanche una minima una minima come posso dire un minimo ceno di stress ma lo psichiatra alla seconda seduta aveva chiamato monica e le aveva detto che suo figlio era guarito da tutte le sue paure era guarito dall'ipocondria cosa impossibile in un lasso di tempo così breve le aveva spiegato che doveva esserci qualcos'altro perché non si guarisce così di botto da una fragilità così grande come quella di leon ma purtroppo questo psichiatra non ha avuto il tempo di capirne di più perché ad aprile le cose degenerano definitivamente nel corso di questo mese leon diventa ancora più strano del solito ogni tanto si fissa col fatto di volere a tutti i costi cucinare per monica e lollo monica però non glielo permette e in una di queste volte in cui monica gli impedisce di cucinare per loro leon ha una reazione spropositata si chiude in camera sua sbattendo la porta e quando lollo gli va dietro per rimproverarlo per dirgli che non ci si comporta così leon inizia ad urlargli contro con una rabbia e una foga che non aveva mai mostrato prima ed è talmente arrabbiato da strapparsi di dosso la maglietta arriviamo così al 15 aprile 2021 quella mattina monica e lollo avevano portato leon a conoscere i proprietari dell'appartamento che avevano preso in affitto per lui dovete sapere che in quel periodo monica e lollo stavano facendo costruire una casa per loro in campagna in cui volevano andare a vivere leon però non voleva andare a vivere in campagna aveva insistito affinché gli prendessero un appartamento in centro così da poter stare vicino ai suoi amici vicino un po a tutto non voleva andare a vivere in un posto così lontano e in un posto isolato appunto in campagna e monica e lollo avevano accettato qualsiasi cosa avesse potuto dargli nuovi stimoli loro erano contenti di farlo e quindi gli avevano preso un appartamentino in affitto in via marconi una bellissima via del centro di bologna e anche qui voglio sottolineare come monica e lollo non abbiano preso a leon una casa per cedere ai suoi capricci della serie va bene ti prendo tutto quello che vuoi basta che la smetti loro per quanto fossero sfiniti per gli atteggiamenti del ragazzo nell'ultimo anno volevano comunque spronarlo a responsabilizzarsi gli avevano preso questa casa per questo motivo gli avevano detto noi ti paghiamo questa casa per un tot di tempo e tu con l'assegno di mantenimento di tuo papà perché suo padre gli dava un assegno mensile con quell'assegno ti mantieni e ti trovi un lavoro o comunque ti trovi qualcosa da fare vuoi studiare studia vuoi trovarti un lavoro fallo insomma volevano spronarlo a fare qualcosa della sua vita e fargli capire che non poteva essere mantenuto da loro senza far nulla per il resto della sua vita comunque come dicevo la mattina leon va con monica e lollo a conoscere i proprietari di questo nuovo appartamento e poi la sera di nuovo leon insiste per cucinare lui si era fissato col voler cucinare per monica e lollo e voleva cucinare le penne panna e salmone nonostante la panna non piacesse a nessuno monica prova a dirgli di lasciar perdere anche perché leon non cucinava mai quindi monica sa che farebbe prima cucinare lei ma leon insiste così tanto che alla fine lei glielo lascia fare mentre cucina leon pretende che monica e lollo stiano fuori dalla cucina li chiude proprio fuori e ogni volta che monica cerca di entrare per vedere cosa stia facendo leon insiste affinché lo lasciano cucinare da solo quindi chiude proprio la porta cucina quindi questi tre piatti di penne con la panna il salmone il salmone quello in scatola triturato in modo finissimo quindi lui aveva fatto una specie di pastone con il salmone e la panna monica e lollo iniziano a mangiare leon invece no li guarda soltanto e muove le penne con la forchetta nel piatto temporeggiando ma non ne mangia neanche una lui va in cucina ci chiude la porta non ci fa entrare assolutamente e a differenza delle altre volte delle altre due volte che aveva provato in cui eravamo riusciti a entrare in cucina e dico vengo a fare piatti gli propongo di fare i piatti io e lui mi dice no assolutamente vi faccio anche i piatti quindi ci vuole servire proprio i piatti e ci porta i piatti in tavola io mangio le forchettate e sento questo sapore di sale molto forte e con lui dico ma quanto sale ci hai messo lui mi risponde forse mi sono sbagliato forse ho usato nel sale fino c'è anche il foro più grande dice forse mi sono sbagliato dico dai non è la prima volta che fai da mangiare va fa tante due volte poi la faceva anche per se stesso delle piatti freddi ma non è un bambino dico scusami è quanto sale hai messo ma non lo so mi sarò sbagliata allora mangio l'ennesima forchettata io non so quanti mi hanno misurato pesato chiaramente la difesa quanti maccherone maccherone non lo so io ho mangiato delle forchettate terzo di piatto un quarto di piatto all'ennesima forchettata sento questo sapore d'ammoniaca che mi arriva come il retrogusto del vino quando si beve il vino che poi ti rimane nel palato e chiedo a mio marito se è normale che se la pasta è molto salata ti possa rimanere questo e lui mi dice sì è molto salata dice però io non sento questo sapore d'ammoniaca dice poi non mi risulta che il sale dia questo sapore d'ammoniaca dice ma per me lo senti solo tu e quindi io lascio lì dico no non mi piace assolutamente dico lasciate lì tutti tutti da mangiare vi faccio io un piatto di pasta con il pomodoro allora lì lui inizia a fare il pianto il primo pianto la prima scena inizia a piangere a piagnocolare sono un incapace non so mai fare niente sono fallito hai ragione a darmi del fallito mai dato del fallito a mio figlio quindi sai che in un momento che ti sembra a te fragile si mette a piangere perché ha fatto un piatto di pasta sbagliato invece di dire ok mamma fammi qualcos'altro c'è qualcosa che non va e io ero disperata quindi ero attenzionata assolutamente attenta a lui attenzionavo lui perché lui piangeva piagnocolava io dicevo ma cosa c'è leon per un piatto di pasta ma smettila quindi non non mi saltava neanche nella testa di guardare mio marito adulto grande senziente lì seduto che mangiava perché non potevo pensare che stesse mangiando del veleno tant'è che non mi accorgo neanche lo vengo a sapere dopo che lui si alza e va a prendere il pepe per riuscire a mandare giù questa pasta perché si era già reso conto che lui stava iniziando a quindi per non dargli un dispiacere sì 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 l'ha voluto accontentare e io perché per calmarlo non sapevo come fare mi ero già impanicata perché vedevo che lui stava perdendo l'illume della ragione cioè ma cosa sta capitando a questo nostro figlio quindi faccio questo nel frattempo ma sono stati minuti non è così come lo racconto sono stati minuti faccio la pasta no ma ma mi giro mio marito si alza e mi dice mi gira la testa mi sembra mi gira la testa lollo quindi inizia a sentirsi male in principio gli gira solo un po la testa e si siede sul divano ma nello stesso momento anche leon inizia a comportarsi in modo strano inusuale inizia ad essere eccessivamente affettuoso con sua madre cosa che non faceva più da mesi leon ha quello che sembra un vero e proprio crollo emotivo inizia ad abbracciarla a piangere a dirle che è un fallito che non è capace neanche di fare un misero piatto di pasta monica in quel momento automaticamente da mamma inizia a concentrare tutte le sue attenzioni sul figlio preoccupata che tutti quei comportamenti strani di quell'ultimo anno stiano culminando in questa crisi depressiva piano colando mi prende per mano mi trascina in camera ma io non mi rendo conto che che è una forzatura per me era una disperazione quindi si sdraia prono sul letto faccia contro i cuscini si mette a piangere e mi tiene mi tiene le mani mamma ti prego stai qua ti voglio bene mamma ti voglio bene mamma non mi abbandonare non mi lasciare mamma ti prego ti prego io non sapevo da che pesce che pesce pigliare perché comunque mio marito in casa che non lo sentivo non sapevo cosa aveva mio figlio lì disperato come non lo vedevo da tantissimo tempo perché l'avevamo visto no cambiare era diventato qui ma con leon cosa ti succede ma di mamma ma sono qui non ti lascio devo andare a vedere l'ollo come sta no 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 appena io dicevo devo andare a vedere l'ollo come sta lui urlava no 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 e mi stringeva le mani non mi abbandonare non mi abbandonare fino a che all'improvviso da sdraiato a pancia in giù con la faccia immersa nel cuscino in cui piangeva o fingeva di farlo si alza in ginocchio sul letto cambia espressione torna a serio e guardandola con uno sguardo spaventoso le dice e chi te lo dice che non ho preso del veleno per suicidarmi magari ho preso del veleno prima in camera mia e ora sto morendo in quel momento monica non collega le cose perché prima di riuscirci arriva anche per lei un forte malessere monica inizia a stare malissimo le viene una nausea incontrollabile e corre in bagno il malessere che prova è travolgente le gira la testa in modo veramente incontrollabile ma leon sembra non volerla lasciare da sola neanche un secondo infatti persino in un momento così delicato vuole stare al fianco di sua madre vuole stare proprio nel bagno insieme a lei che invece vuole stare male in pace da sola mentre monica è in bagno in preda ai conati leon sparisce per un momento per poi ricomparire qualche minuto dopo con in mano un bicchiere d'acqua e le dice mamma bevi ma monica sta troppo male non riesce a bere neanche un goccio d'acqua leon la fissa con occhi che monica descrive come diabolici neri da paura e che non potrà mai dimenticare e insiste dicendole bevi la scientifica in seguito confermerà che dentro quel bicchiere d'acqua c'era una dose di veleno così elevata da poter uccidere una classe intera vi leggo la trascrizione dei dati precisi della consulente veleni del tribunale cito nel reperto 8a che è il liquido asportato dal bicchiere quello in cui abbiamo verificato l'effettiva presenza del nitrito sono stati riscontrati 51 grammi per litro di nitrito di sodio una quantità esorbitante e per farvi capire la dose letale per un essere umano è generalmente di due grammi e mezzo di nitrito di sodio lì dentro ce n'erano 51 improvvisamente monica si rende conto di non sentire lollo da un po di tempo quindi con le poche forze che ha si alza per andare a controllare come stia il marito e nel farlo succede qualcosa qualcosa di quasi impercettibile ma che a monica dà una sensazione terrificante l'espressione di suo figlio era cambiata allora a un certo punto gli butto via il bicchiere glielo spostico basta dico ma lollo corro in sala c'era mio marito non più seduto ma sdraiato con la testa così come una chaise longue una penisola seduto cioè i piedi del incontro la spalla la poggia testa la testa sul sul la chaise longue e va la bocca semi aperta ma tutta una roba bianca in faccia che era visto di tutto io ho urlato fatto un urlo che io non lo so dove mi sia uscito un urlo l'urlo di un animale ho fatto urlato dio ma in un modo l'urlo di un animale se dovessi identificarlo in un modo un urlo che non ripeto non so da dove mi uscisse perché in quel momento ho detto ma cosa ci sta succedendo ho pensato poi faccio e subito neanche lì avevo pensato a quello mi faccio mi giro per prendere su questa piccola libreria i nostri telefoni che avevamo a tavola vicino a tavola i telefoni non c'erano più a quel punto in un attimo ho capito e allora ho fatto per buttarmi contro la porta ma lui da dietro mi è venuto dietro mettendosi i guantini quelli da dottore quelli di silicone di gomma ho sentito il rumore tac tac di quando se li mette poi mi ha preso il naso e la bocca e ha cercato di togliermi il respiro a quel punto io ho iniziato a lottare mi sono attaccata alla tavola che avevamo lì in sala infatti la tavola era spostata mi sono attaccata a tutto quello che riuscivo c'era una porticina che andava su un sottoscala mi sono attaccata quello lui non se l'aspettava probabilmente l'ho preso un po di sorpresa ho iniziato a urlare chiamati carabinieri chiamate carabinieri ci sta uccidendo chiamati carabinieri mi vuole uccidere insomma ripetevo questo e siccome non stavo zitta mi dava dei pugni in bocca per farmi per farmi tacere così sul naso sulla bocca poi mi trascina in camera in camera continua a picchiarmi perché io urlavo poi mi mette sotto i cuscini avevamo dei cuscinoni grandi che io credo che siano quelli che mi hanno salvato un po la vita perché questo veleno ti fa collassare i polmoni quindi non respiri più e io in più urlavo i cuscini erano di lino e collino riesci a respirare perché il cotone diverso lui mi aveva buttato per terra sul letto prima non mi ricordo se subito sul letto e mi metteva il cuscino questo cuscino grande sulla testa poi addirittura due perché io cercavo di girare la testa da una parte allora lui mi metteva un cuscino così e l'altro anche quindi tutti e due sulla faccia ma quando io trovavo un pertugio cercavo di urlare e poi lui era molto forte anche perché io sono una donna lui era un ragazzo forte adrenalinico io avvelenata però tiravo tutta la forza che avevo fuori perché io volevo salvare il mio marito perché mio marito comunque era là e io non sapevo cosa gli stesse succedendo pensavo che fosse vivo volevo salvarlo e quindi mettevo tutta la forza della disperazione che avevo quindi una volta sono caduta di fianco al letto e cercavo di tirarmi in piedi avevo spostato il letto perché cercavo di aggrapparmi anche perché lui mi prendeva sempre da dietro vigliacca mente e quindi cado giù per terra sul pavimento quindi lui mi teneva pressato il viso contro il pavimento e il cuscino sopra e poi mi stava sopra mi montava sulla schiena quindi per me era impossibile respirare urlare ribellarmi e lui mi diceva e io continuavo a ribellarmi e lui mi diceva la frase per me è diventata famosa perché non muori cazzo e pure il veleno te lo dato ti farà effetto prima o poi e mi ripete questa frase più volte perché non muori cazzo è che non muori ma sempre con questo modo quasi di sbeffetto quasi di incredulità come dire ma come caspita è che non riesco a farmi le trecce stamattina cioè nello stesso modo quindi non era arrabbiato cattivo no no era proprio guardate e quindi riesce non so in che modo riesco a salire da terra e quindi lottiamo ancora sul letto di nuovo io cado sul letto davanti in ginocchio però non riesce a buttarmi sul letto stavolta allora io gli prendo da dietro i capelli e lui mi che io così in questo modo di prendere capelli e cerco di liberarmi quindi lo vedo e lui con la stessa faccia mi dice no i capelli no però è e io io non ci volevo credere io a un certo punto ti dico ma stai giocando vero c'è in tutta quella colutazione mi dico stai giocando vero pensa la la follia come poteva giocare a quel punto sapevo già cosa serve seppure non riesce una madre non può non può accettarlo mai e poi sul letto di nuovo io gli dico chicco ti prego sono la mamma per cercare di farlo risalire ti prego lasciami sono la mamma se hai bisogno di parlare siamo ancora in tempo dimmi che cosa succede sono la mamma lui mi continuava a dare dei pugni a sbattere sul letto schiacciarmi sotto quei cuscini ea dirmi continuamente com'è che non muori cioè lui voleva arrivare alla fine a un certo punto io cado giù dal letto lui mi sbatte per terra di nuovo con la faccia contro il pavimento io questo ho raccontato un'altra volta sola ma per me è molto importante perché lo so che è incredibile ma io a quel punto sento ormai ero già andata perché sentivo proprio la vita scivolarmi via e glielo dico gli dico lasciami andare non mi fare più del male ti prego lasciami andare almeno fammi come dire fammi morire tanto non sapevo che non avrei più salvato né me e mio marito e a quel punto io ho sentito una forza sotto la pancia che non è un istinto di sopravvivenza lo posso mettere per iscritto lo posso urlare al mondo c'è stato qualcosa sotto la mia pancia che mi ha caricato come si faceva una volta con i sacchi come facevano i contadini come così mi ha proprio ho sentito proprio una propulsione da qua sotto se qualcuno mi sa spiegare come dopo mezz'ora di lotta l'ho disarcionato perché l'ho colto di sorpresa l'ho disarcionato lui è caduto indietro e sono riuscita a scappare a quel punto mi ha ripresa per i capelli mi ha risbattuta sul letto io gli ho detto e però lui sentiva i vicini sentiva i carabinieri cosa che io non sentivo nel frattempo i vicini avevano chiamato i carabinieri nel frattempo i vicini avevano chiamato i carabinieri i carabinieri erano arrivati attaccati alla mia porta ma erano i miei vicini che facevano i bussi che che lanciavano che bussavano coi pugni con i calci però c'erano anche i carabinieri che dicevano evidentemente carabinieri non lo so lui dice si ferma mi tiene stretta sempre per i capelli e mi dice hai visto che sai cosa hai combinato hai visto ma che cazzo urli cosa voglia fare hai visto sono arrivati i carabinieri fortunatamente i vicini di casa sentendo le urla strazianti di monica chiamano i carabinieri non appena la porta dell'appartamento si apre monica esce e si accascia per terra sul pianerottolo in preda ai forti dolori e ai tremori completamente blu in faccia nelle labbra e in preda al terrore che leon la raggiunga e che la finisca nel frattempo però lui ancora scalzo con le scarpe in mano scappa via uscendo da un'altra uscita e passando davanti agli occhi dei carabinieri che erano lì leon corre scalzo per circa un'ora fino a raggiungere casa di sua nonna la mamma di monica che si trova a circa sei chilometri di distanza passando per campi e stradine secondarie per non farsi vedere e ha persino messo il cellulare in modalità aereo e ha anche cercato di disfarsene buttandolo in un fossato per non essere localizzato ma le autorità non ci mettono molto a rintracciarlo e alle 23 30 arrivano a casa di sua nonna e lo arrestano quanto sei stata in ospedale che cosa in ospedale sono stata una decina di giorni non più però le prime cure sono state le prime tra l'altro le più importanti fra l'altro sembra non bello da dire ma umiliantissimo perché io sono arrivata mi hanno fatto di tutto mi hanno il dottor ferdi che il dottore della rianimazione che è stato carinissimo raggio al telefono con l'ospedale di pavia che il centro anti veleni perché qua non non c'è non sapevano che antidoto darmi se mi avessero dato un antidoto invece che quello per il nitrito sarei morta per colpa loro perché avrebbe accelerato il veleno quindi devono essere molto sicuri che fosse nitrito loro hanno usato l'antidoto mi hanno fatto di tutto perché mi hanno mi dice signora dobbiamo iniziare a torturarla lei sentirà del gran male ma non possiamo far diversamente quindi da sopra da sotto mi hanno infilato tubi catetari lavanda gastrica mi hanno lavato 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 fatto fatto di tutto per giorni c'è un come si dice una misura una misura che loro usano per vedere quando tu arrivi in fin di vita di animazione quanto sei nella soglia di pericolo e questo massimo è il 2 per cento io ho 71 per quello che vi dico io non sono viva per lo so che sembro matta ma io sono viva proprio per un miracolo qualcuno mi ha salvato quella notte perché anche loro anche i medici là dentro sono rimasti basiti durante i primi interrogatori leon dà delle versioni confuse e contrastanti alle autorità che lo descrivono come in evidente stato di shock ma anche presentando a tratti un'inaspettata lucidità in principio il ragazzo è molto alterato e dice di non sapere assolutamente che cosa sia successo a sua madre e al suo patrigno e poi in un secondo momento inizia a dare la colpa a sua madre secondo leon era stata monica ad avvelenare suo marito e per qualche motivo ad avvelenare anche se stessa e a questa prima fantomatica teoria si appiglia con forza anche il padre di leon che addirittura pronuncia le seguenti frase riportate in un articolo del resto del carlino ve le leggo credo a mio figlio e non a monica marchioni ho deciso di parlare dopo che per mesi è stata raccontata solo e sempre la versione di lei che descrive leon come un mostro con carte e documenti alla mano per gridare con forza che mio figlio è innocente e che la verità da ricercare sarebbe tutta un'altra delle frasi forti da pronunciare in una situazione in cui le prove parlano chiaro la procura infatti dimostra che era stato proprio leon a comprare il veleno usando l'ipad di sua madre che infatti gli aveva proprio chiesto spiegazioni gli aveva chiesto perché avesse comprato quella sostanza il veleno che leon ha usato è il nitrito di sodio che ha comprato online quando monica aveva visto questo strambo acquisto aveva subito cercato su google a che cosa servisse il nitrito di sodio e se lo cercate vedrete che come primo risultato viene che si tratta di una sostanza usata come conservante per alimenti allora monica aveva chiesto a leon scusa ma perché hai comprato del conservante per alimenti al che lui aveva risposto a no ma il nitrito di sodio viene usato anche come una specie di fertilizzante per le piante l'ho preso per quello per le mie piantine vi ricordate che leon aveva questa nuova passione per le piantine no quindi monica non ha messo in dubbio la cosa i militari però subito dopo l'arresto avevano sequestrato dalla sua stanza diverse sostanze tossiche tra cui una piantina la sua grande passione peccato che era una piantina estremamente velenosa precisamente era la gloriosa superba una pianta estremamente tossica che aveva anche questa ordinato su internet usando la carta di credito di sua madre ma non finisce qui perché aveva fatto anche altri ordini da internet ordini che arrivano dopo qualche settimana e ovviamente che sono stati portati poi ai carabinieri in uno di questi pacchi che arriva questa era più che altro una busta c'erano dei semi di colchico detto anche zafferano selvatico che appunto ha lo stesso sapore dello zafferano ma è estremamente tossico se ingerito infatti causa vomito diarrea sanguinante paralisi generale del corpo e infine la morte a quanto pare leon li aveva acquistati online il 7 aprile quindi circa una settimana prima dell'avvelenamento e nella stessa data aveva acquistato anche del diazinol ovvero un antiparassitario per bovini anche questo ovviamente estremamente velenoso se ingerito e anche il diazinol era tra le cose recapitate successivamente questo diazinol a quanto pare se lo era fatto arrivare proprio dall'estero perché in italia non era riuscito ad acquistarlo al processo di primo grado però la pm non crede alla versione della difesa del ragazzo non crede al fatto che sia stata monica a fare tutto ciò anche perché dalle indagini non tornava nulla e chiede infatti che gli venga dato l'ergastolo per lo migliorio di lollo più 18 anni per tentato migliorio nei confronti della madre leon insieme al suo avvocato decidono di ricorrere in appello in quanto non accettano questa condanna e anche il padre di leon è sgomento e dichiara alla stampa come riporta il corriere di bologna hanno condannato un colpevole ma non la colpevole sempre riferendosi a monica che in quel periodo è più devastata che mai e aggiunge anche che la sua battaglia è quella di dimostrare l'innocenza di suo figlio a costo di impiegarci tutta la vita ma pochi giorni prima del processo d'appello tutto cambia leon aveva infatti già fatto una mezza confessione aveva ammesso di aver avvelenato lui monica e lollo ma aveva detto di averlo fatto solo perché voleva vedere che effetto facesse il veleno aveva detto che il suo obiettivo finale era quello di togliersi la vita ma non voleva soffrire e quindi aveva usato sua mamma e suo marito come cavie ma appunto qualche giorno prima del processo d'appello leon prende la decisione di confessare vuole dire tutta la verità infatti al processo d'appello si presenta con un nuovo avvocato perché quello che lo aveva rappresentato fino a quel momento lascia il caso e anche suo padre lascia al suo fianco da che gli era stato accanto per tutto l'anno che ormai era passato ad ogni udienza e dopo esserlo andato a trovare in carcere praticamente ogni giorno e dopo aver dichiarato animatamente svariate volte che la colpevole doveva sicuramente essere la sua ex moglie dal momento della confessione di leon in avanti l'uomo non si vedrà mai più al fianco del figlio in aula leon dice le seguenti parole oggi voglio dire la verità sono stato io ad aver fatto quello di cui mi accusano mi dispiace parlare solo ora non l'ho fatto prima perché avevo paura voglio assumermi le mie responsabilità e chiedere scusa alle persone a cui ho fatto del male spero che mia mamma possa perdonarmi e di poter avere una seconda possibilità alla fine del processo la corte passa 12 ore in camera di consiglio prima di uscire con una decisione ad alessandro leon asoli viene confermata la condanna a 30 anni di carcere gli viene quindi revocato l'ergastolo perché gli viene tolta l'aggravante dei motivi abbietti nelle motivazioni della sentenza la corte d'assise di bologna descrive il fatto come una sequenza davvero film dell'orrore e un dolorosissimo lungo autentico dramma scrive che leon asoli quel giorno dopo aver assassinato il patrigno ha tentato di uccidere tre volte la madre con la pasta con un bicchiere avvelenato e infine tentando di soffocarla e accompagnando i propri gesti con parole terribili tipo perché non muori i giudici sostengono che leon abbia premeditato il delitto pianificando tutto da tempo da fine marzo mentre a inizio aprile avrebbe iniziato a ricercare e a studiare i veleni su internet per poi acquistare il nitrito di sodio ma anche tutte le altre sostanze velenose come appunto quella pianta che avevano trovato nascosta nel suo armadio il movente che secondo l'accusa era l'eredità per i giudici invece come scrivono nelle motivazioni affonda le sue radici nelle vicende di vita del ragazzo in un'aggressività nei confronti della madre da cui si sente pressato per lo studio e per il lavoro e di cui finisce per pianificare la morte leon asoli decide di non ricorrere in cassazione e quindi questa è la sentenza definitiva sono in molti ad essersi spiegati questa orribile tragedia con beh forse leon era sotto l'effetto di sostanze quel giorno ma come mi ha detto anche monica il maresciallo dell'anticrimine che ha arrestato leon ha confermato che no non era sotto l'effetto di sostanze e che monica sappia non ne aveva mai fatto uso perché come vi dicevo lo spaventava il fatto di assumere sostanze che gli facessero perdere la lucidità e tra l'altro col senno di poi sia monica sia chi ha eseguito le indagini pensano che leon abbia tentato di avvelenarla anche prima pensandoci oggi monica ricorda che nelle ultime settimane soffriva costantemente di crampi addominali e di nausea costante al tempo aveva pensato di essersi presa qualche forma di influenza ma adesso viene da pensare diversamente ma oggi come sto oggi quando mi chiedono come sto quando incontro delle persone io dico vivo vado avanti vado avanti perché è stato deciso che io sopravvivessi spesso mi chiedo ancora perché una volta proprio non capivo perché io fossi sopravvissuta adesso me lo chiedo ancora e vado avanti perché così è stato deciso ma non lo so come sto quello che mi ha credo salvato che mi sta aiutando che mi sta aiutando a tirar fuori la forza sicuramente il mio percorso percorso che faccio con la mia psicoterapeuta e la mia psichiatra che donna molto molto professionale molto brava molto competente ma anche molto umana è riuscita a tirarmi fuori dal buio in cui ero entrata quasi subito con la voglia di togliermi la vita io perché non aveva più senso rimanere qua da sola perché perché sono rimasta da sola perché non ho nessuno e quindi sono da sola e soprattutto sono senza mio marito che era la mia il mio perno centrale la mia colonna eravamo ci compensavamo io ero per lui la gioia di vivere detto da lui non da me quando era qua con me ma lui era una grande forza che mi dava una grande io ero suberante lui era molto tranquillo ma lui mi dava una grande forza era proprio la mia colonna e quindi la mia dottoressa mi ha tirato fuori da questo buio sicuramente con tanta forza che ho dovuto tirar fuori e mi sono lasciata guidare quindi non ho mai fatto blocchi l'ho sempre lasciata condurre questa mia rinascita questa mia ma rinascita questa mia sopravvivenza e poi merito sicuramente anche di una di una fede che ho tirato fuori che non è una fede nella religione cattolica una fede precisa specifica in una religione è una un mio percorso spirituale che sto facendo che comprende sicuramente studio meditazione che mi sta aiutando molto mi sta aiutando molto a non vivere la rabbia mi sta aiutando molto a non tirare fuori l'odio che è normale in questi momenti anzi paradossalmente a diventare credo di essere diventata più più sensibile più più buona più più di cuore che ripeto sembra quasi un paradosso perché di solito quando succedono queste cose io subito io ad esempio avevo tirato fuori molta molta cattiveria molta rabbia poi la concomitanza di queste due cose la mia dottoressa che è stata la mia guida nella vita e te tuttora e questa spiritualità che ho conosciuto merito di un'amica preziosa mi hanno aiutato mi stanno aiutando ma la mia vita è vuota fondamentalmente mi aspetto non in forma di non come mia decisione di di togliermi la vita per niente non ci penso assolutamente anzi mi è stata data la seconda volta e me la tengo stretta ma aspetto il giorno in cui potrò ricongiungermi con mio marito perché perché la mia metà è non è qui questa è come vi dicevo all'inizio voglio parlare a questo punto di questa cosa che mi ha toccata molto e che mi ha confusa su tiktok infatti ci sono alcuni video di questa vicenda ma sono chiaramente video molto brevi spezzoni di neanche un minuto di interviste sparse che monica ha fatto e cose così ma aprendo i commenti mi sono imbattuta in davvero tanti commenti strani commenti quasi complottisti di persone che mettono in dubbio monica la sua storia mettono in dubbio la sentenza del giudice mettono in dubbio le indagini mettono in dubbio tutto e essendo ce ne comunque molti io in principio prima ancora di iniziare a lavorare su questa storia me li sono letti un po cercando di mantenere una mente aperta perché mi sono detta se ce ne così tanti forse un motivo c'è ma amici ai miei occhi no no un motivo non c'è sono rimasta solo basita questi commenti sono tutti del tipo questa donna non me la racconta giusta non piange abbastanza davanti alle telecamere oppure c'è qualcosa che non mi convince questa donna è troppo curata e truccata per essere una madre addolorata oppure no dei movimenti del suo corpo si capisce che mente l'ha avvelenato lui suo marito vi giuro che non esiste un commento che vada oltre la superficialità delle cose che vi ho elencato e leggendo le risposte a questi commenti c'è fortunatamente chi ha scritto ok ma guarda che oltre a esserci una sentenza il ragazzo ha confessato al che alcune volte l'utente che aveva espresso dei dubbi rispondeva ah ma davvero e dove posso vederlo quindi c'è questo significa che queste persone questa persona nello specifico ha deciso di scrivere un commento un commento che rimarrà per sempre su internet mettendo in dubbio un fatto tragico accusando una madre di aver ucciso il marito e possibilmente di aver incastrato il suo stesso figlio senza neanche andare a fare una veloce ricerca su google per leggere che il ragazzo ha confessato e che c'è una sentenza è davvero così urgente il bisogno di scrivere un commento accusando di cose gravissime le persone da non riuscire neanche a darsi il tempo di informarsi prima io ci rimango sempre un po male perché questa cosa secondo me è pericolosissima tolto che queste accuse sono talmente gravi da essere passibili di querela ma lasciando perdere questo questo genere di commenti generano altri commenti e se tutti scriviamo cose non vere senza neanche prima verificarle e tipo avvalanga la gente inizia a credere alle cavolate che scriviamo questo genera disinformazione si crea un effetto telefono senza fili infinito in cui alla fine tante persone si convinceranno che questi commenti dicano la verità e andranno a loro volta in giro a dire ah sì sai quel caso sai che ho letto da qualche parte che in realtà la colpevole era la mamma è gravissimo oltre che crudele violento cioè mettetevi nei panni di monica il vostro mondo è stato annientato in un giorno avete perso l'uomo che amavate un figlio che non guarderete mai più allo stesso modo vi ritroverete con un trauma grande quanto una casa e comunque dovrete trovare la forza di andare avanti e possibilmente anche di essere di nuovo felici perché comunque ve lo meritate ho letto che qualcuno ha messo in dubbio le parole di monica perché non capiscono il suo bisogno di andare in giro a raccontare questa storia ma come si fa a non capirlo tolto che non siamo tutti uguali quindi magari monica trova sollievo nel far conoscere la sua storia magari un'altra persona trova sollievo nel non parlare mai più con nessuno ma chi siamo noi per giudicare e perché pretendiamo che le persone reagiscano al dolore esattamente come noi ci aspettiamo non ha nessun senso non siamo tutti uguali non viviamo tutti la stessa vita non abbiamo tutti la stessa sensibilità la prima volta che ci siamo sentite con monica lei mi ha confidato che nella vita non avrebbe mai pensato di ritrovarsi al centro di un fatto di cronaca nera queste sono cose che vedi alla tv e che pensi accadano sempre solo agli altri eppure all'improvviso tutto è cambiato e lei dopo un po mi ha raccontato di aver iniziato a trovare conforto nell'ascoltare le storie di cronaca nera che succedevano agli altri ed è stato proprio così che ha trovato il mio canale ne abbiamo parlato proprio in uno dei miei video recenti degli effetti positivi che il true crime può avere e questo era proprio uno di quelli spiegato anche dalla dottoressa lorita tinelli a volte le persone che hanno subito violenza domestica o che hanno provato sulla loro pelle un fatto tragico trovano conforto ad ascoltare le storie che sono capitate agli altri perché si sentono meno sole e non penso sia così difficile da capire perché vuoi condividere la tua storia perché ci tieni che questo è molto importante ci tengo perché non voglio che mio marito sia morto in vano è vero che si devono ricordare solo gli eroi probabilmente devono rimanere la storia gli eroi ma mio marito nel suo piccolo nella nostra piccola storia la nostra piccola famiglia lo è stato perché è stato vicino a un figlio che non era il suo l'ha amato e fino alla fine è morto per questo perché comunque per per far sì che lui non avesse dei disturbi per non disorientarlo per non farlo arrabbiare quella sera ha mangiato tutto tutta la pasta per renderlo felice ed è ed è ed è un eroe e non si deve dimenticare come se fosse niente perché troppo spesso queste storie subito creano clamore no scandalo forse le persone si sentono sempre al di sopra di tutto questo a me non capiterà mai non è vero noi eravamo una famiglia normale una famiglia per bene una famiglia che si amava ed è successo anche a noi e non c'era niente di stonato nella mia famiglia fino a questo momento che potesse far presagire a qualcosa di che sarebbe successo anzi io mi permettevo ero una di quelle persone che si permetteva di dire beh mio figlio un bravo ragazzo ma guarda cosa succede in queste famiglie poveretti e mio figlio invece sarà il mio orgoglio e io lo dico lo dico lo ammetto perché io ero una di quelle persone non che criticassi non è mai stata la mia indole però mi sentivo al di sopra e questo deve essere anche questo il messaggio un monito perché comunque non bisogna mai sentirsi al di sopra di ogni cosa perché tutto può succedere a chiunque e e anche per far sapere che una vittima come è successo a me che è stata rivittimizzata e ho patito per un anno le pene dell'inferno nonostante avessi già vissuto un inferno io lo chiamo il mio ragano catrina perché mi è stato tolto tutto e sono stata lo stesso massacrata e calpestata nei diritti nella nel mio essere donna mamma donna nella mia vita moglie tutto perché hanno calpestato anche il nostro rapporto e questo succede a tutte le vittime troppo spesso e non deve non dovrebbe succedere più ecco questo è la mia era il mio intento di parlare a più persone possibili della mia storia per questo motivo e spero che che veramente serva se sono sopravvissuta a volte me lo chiedo servirà a qualcosa con tutti i genitori che poverini se ne sono andati entrambi e se io sono qui ci sarà una ragione io vorrei che fosse questa la ragione grazie grazie a voi ragazzi e anche questa volta ho voluto chiedere un parere professionale alla dottoressa lorita tinelli la conoscete perché appunto un po perché ha già dato un parere in uno dei miei video e anche perché ha collaborato con me nel mio nuovo libro lei è una psicologa forense e ci spiega il perché a volte le vittime di queste storie tragiche che hanno subito un forte trauma riescano non solo a raccontare la loro storia ma a raccontarla in modo quasi distaccato come se non fosse successo a loro come se fosse successo a qualcun altro proprio per la nostra incapacità di accettare un'espressione diversa dalle nostre aspettative finiamo per giudicare in maniera aggressiva perché il monitor ce lo permette perché non lo facciamo guardando negli occhi l'altra persona e dietro la tastiera appunto esprimiamo rabbia e aggressività nei confronti di chi magari in un'intervista si mostra troppo sorridente quando dovrebbe piangere per un lutto o quando veste in una maniera elegante mentre dovrebbe mostrare sofferenza per una situazione drammatica che ha vissuto quindi ognuno di noi ritiene che il dolore soprattutto il dolore perché l'esperienza più difficile da gestire nella vita debba essere espresso in un unico modo nel modo che a noi appartiene senza considerare che ciascuno di noi invece utilizza modi differenti per esprimere le emozioni e anche diversi meccanismi di difesa che possono in qualche modo fare eccellere in una direzione piuttosto che un'altra mantenere il controllo eccessivo delle emozioni vissute per cui ogni soggetto è unico e ripetibile e ha una sua modalità di esprimersi anche a livello emozionale e ci spiega anche il possibile motivo per cui noi sentiamo il bisogno di giudicare una vittima che non ci sembra abbastanza vittima o cerchiamo di voler trovare per forza una spiegazione alternativa ad un fatto che per noi è troppo crudele la questione pone due ordini di riflessioni che in qualche modo sono concatenate parafrasando Umberto Eco i social hanno dato spazio a una legione di imbecilli che prima si radunavano nei bar e adesso invece hanno una cassa di risonanza molto più ampia questo attiene al fatto che la comunicazione social viene utilizzata da tutti e tutti si sentono esperti di tutto in grado di fare di esprimere non opinioni ma lapidarie di agnosi molto spesso che non fanno altro che generare delle polarizzazioni che a loro volta generano aggressività nei confronti di tutti coloro che vengono percepiti come diversi ed è qui che c'è un altro ordine un altro ordine di riflessione la diversità la psicologia sostiene che le persone simili si riconoscono e interagiscono meglio per cui quando siamo di fronte a una persona che esprime il suo dolore e le sue emozioni in maniera diversa da come ci aspettiamo che faccia esprimiamo dei giudizi negativi che non sono altro che proiezioni le proiezioni nostre personali e le aspettative che noi abbiamo nei confronti degli altri quindi quando riconosciamo le emozioni simili quando ci aspettiamo che qualcuno reagisca in modo come reagiremo noi a quella situazione e quindi in quel modo percepiamo similarità e giustifichiamo quando quel qualcuno agisce in una maniera diversa da come faremo noi iniziamo a sospettare che abbia qualcosa di nascosto che non sia una persona trasparente che sia il cattivo di turno quello che voglio dire con queste parole è come sempre mettetevi nei panni delle persone prima di giudicare prima di lasciare anche solo commenti su tik tok perché se vi trovaste voi in quella condizione sicuramente vorreste la stessa cosa vorreste che la gente prima di giudicarvi provasse a mettersi nei vostri panni e se tutti ci sforzassimo un po di più a metterci nei panni del prossimo prima di fare qualsiasi cosa vi giuro che sarebbe un mondo migliore comunque spero con questo video di aver chiarito ogni dubbio che poi vabbè quello che ho raccontato è semplicemente una ricostruzione dei fatti basata un po sul racconto di monica ma anche supportata dalle carte processuali quindi spero che adesso sia tutto chiaro spero che lascerete parole di supporto e di incoraggiamento sotto questo video sicuramente monica le leggerà e sicuramente le farà piacere io vi ringrazio dal profondo del mio cuore per tutto il supporto che ogni giorno mi mostrate grazie per rendere possibili video come questi che per me sono veramente i più importanti come sempre amici io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao